Io credo che oggi a Verso Sud sia emersa una verità, è avvenuto meno il paradigma della questione meridionale e sempre più ci dobbiamo rendere conto quanto invece il meridione possa essere un'opportunità, un'opportunità per il paese e un'opportunità per l'Europa, perché Parimenti è anche centro del Mediterraneo e quindi centro di tantissimi snodi e quindi anche dall'Europa c'è e ci sarà sempre più attenzione. Noi come Mediocrio Centrale e Banca del Mezzogiorno ovviamente per missione ci affidata dal governo serviamo il Mezzogiorno, ne serviamo le imprese, ne serviamo i territori e sempre più vogliamo essere protagonisti per partecipare a questo sviluppo che ci sarà nei prossimi anni.